Mi ha detto ieri un ragazzo, veramente una cosa di assurdo, prima di rinunciare la festa, era lì, non aveva capito la situazione, il motivo per cui sogniamo, il motivo per cui ci sono a questa festa, a lui non ce ne frega niente di vendere le coppie del disco, l'ha detto proprio col cuore, non è per farlo già trarre, va veramente una cosa così, questa ragazza ha detto guarda, sarei fortunato se avessi degli amici che quando muoio fanno una cosa del genere e questo dovrebbe essere una cosa che va bene per tutti quelli che si lavorano e che hanno supportato questa cosa, un ringraziamento a tutti, un ringraziamento e quindi comunque, visto che siamo gente che sa vivere perché se la mastica tutti i giorni sappiamo anche che comunque l'unione, la forza, l'antifascismo si trasmettono anche con l'allegria, la gioia e la voglia di stare insieme e quindi è giunto il momento di presentare a voi, qua a Fresenzi, uno dei più grandi rap show militanti, forse l'unico in questo cazzo di paese di me, DJ ma la testa c'è la Maretti, vorrei su un palco bimbo di imporci, io vado in culo a cavallo, sono un don con la testa, mentre in guerra, associazione sorversiva, come sempre no? Go! 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 No la pieta quel rapport che ha scritto nero sugnato sulla tarda, la partita è un furo aperto, ho scrivato la mia verdicновale, è solo il primo tempo, adesso il conseguimento parco a casa cambiato, la rotura di ogni schermo è che l'aspetto di sociodato, con un nuovo fine che si chiama Libero Mercato, la notte è generata per la vita della zara, antifascismo Il nostro obiettivo è il tuo incubo pezzone. 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 Prima che tutto si mette a pezzo, il nostro obiettivo è il tuo incubo pezzone. 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 Oh Poi l'unica cosa certa è che ho la messa a guerra aperta Sembra di un pazzo dare un povero fuoco Minacciato tra lavoro e d'affitto Ero scritto e diritto, scelto di interrogativo Dico lo che sono fatto, devo parlare in contatto Facendo bene fare il punto, ho visto Quando ecco io ho ucciso Se la mia parte non mi accusa di d'affitto Dico lo dico, devo stare per il mio contatto